Fa Giorgio Meloni anche al centro-destra? Guardi, non credo proprio, sicuramente non agli elettori di centro-destra e nemmeno penso agli amici alleati o con cui dovremmo allearci per andare al governo della nazione, insomma. Fanno più paura agli elettori del centro-destra e quei parlamentari che potrebbero essere votati col centro-destra per poi il giorno dopo andare a provare a fare un governo col PD e coi 5 Stelle. Questo che abbiamo visto in passato non deve più succedere, su questo dovremmo chiedere garanzia a tutti. Quindi oggi è andato lì che compatti? Noi sicuramente, Fratelli Italia sarà sicuramente il centro-destra e alternativa al PD di Letta. Gli altri sentiremo al vertice cosa vorranno dire.